Signore e signori buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa di chiusura del 63esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, prima di cominciare facciamo partire un video. La nautica va a gonfie vele, la città va a gonfie vele, buon vento a tutti. La nautica italiana è un'eccellenza nel mondo e questo salone è tornato ad essere centrale nelle manifestazioni economiche del pianeta. L'applauso più grande agli oltre mille espositori che non hanno mai mollato anche negli anni difficili. Un insieme di emozioni a mano che entri nel salone, un'emozione che rappresenta l'eccellenza dell'industria italiana. Non abbiamo mai avuto l'ascolto come oggi da parte del governo, però dopo l'ascolto occorre l'attenzione e l'azione. Non è il comparto della nautica che deve ringraziare me per essere venuta qui oggi a colmare una laguna di 37 anni. Sono io che devo ringraziare questo comparto. Il meglio della nautica tra imbarcazioni di tutti i tipi. Apre oggi la 63esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Un appuntamento internazionale per un'eccellenza dell'industria italiana. Un appuntamento internazionale per un'accellenza di noi. Un appuntamento internazionale per gli aspetti. Il sviluppo di un'accellenza dell'appuntamento internazionale è molto interessante. ...feels like a purpose-built boat show, which is incredible, absolutely incredible. Di nuovo buongiorno a tutti e lasciamo la parola al Sindaco Marco Bucci, prego. Sei l'ultimo. E noi ne siamo assolutamente soddisfatti, questo è proprio quello che volevamo ottenere. Perché vedete, noi abbiamo, io, la città ha almeno tre o quattro obiettivi principali. Il primo ovviamente è la nautica da riporto. La nautica è un business importante, cresce più del double digit ogni anno, ha una grande ricaduta economica e occupazionale sulla nostra città, quindi è ovvio, quasi evidente, che noi vogliamo aiutare, vogliamo farsi facilitare e far sì che il business continui a crescere e a dare importante ricaduta sulla città. Ma c'è anche il salone. Il salone è collegato alla nautica. Per Genova il salone è una cosa fondamentale perché non solo ci dà questo successo, ma ci permette a tante persone di venire in città. E venire in città non c'è soltanto il discorso dei giorni che si passano qui, ma anche la possibilità di vedere cose belle e poter ritornare in città. E quindi si parla di turismo, si parla di turismo esperienziale, si parla di un turismo di fascia medio-alta che ci consente veramente di avere il massimo delle ricadute. E poi c'è il quartiere. Quest'anno è stata la prima volta che il quartiere, il nuovo quartiere del Waterfront di Levante, è stato visto, passeggiato direi, da tutti con grande soddisfazione e questo ci dà ancora più carica per finirlo entro l'anno prossimo perché il salone dell'anno prossimo sarà il salone dove inaugureremo veramente il Waterfront di Levante. Sarà la prima manifestazione ufficiale dove il Waterfront di Levante sarà completo. E questo ci dà la forza per poter lavorare ancora un anno perché ci sono molte cose da fare, dobbiamo impegnarci tutti, ma la città si è impegnata. La città ha risposto bene, direi. Io ho sentito molti commenti dagli espositori, cioè da quelli che non sono genovesi, che hanno detto come è cambiata la città. La città, vabbè, se dico che dicevano che era pulita, magari i genovesi non ci credono, però è vero. Ho avuto tantissimi commenti di gente che diceva che la città è pulita, il che vuol dire che forse non ci comportiamo poi così male rispetto agli altri. Ma l'obiettivo di essere perfetti c'è sempre, per cui noi puntiamo veramente all'alto da questo punto di vista. E come sono ospitali i nostri abbregatori, come sono ospitali i ristoranti. Vedere i ristoranti sempre pieni è sempre una cosa bella, vuol dire che il sistema funziona. Quindi c'è questo feeling, c'è il feeling che la città sta migliorando da questo punto di vista e questo nuovo quartiere, il salone di così grande successo, formano un sistema sinergico che sta veramente cogliendo le grandi opportunità e colpendo tutti. Questo secondo me è il messaggio che voglio dire alla fine. Tanta gente, gli espositori contenti per il business, queste cose ormai le conoscete, le dirà poi Saverio, le dirà il presidente Toti. Io voglio dire che la città ha risposto bene. Ne siamo contenti ed è un'energia ancora in più per poter fare tutto quello che dobbiamo fare per i prossimi anni. Grazie a tutti. Presidente Attanasio, prego. Grazie. Per me è un piacere essere qui con voi a chiudere un'edizione davvero scintillante del nostro salone. Io ringrazio Saverio e ringrazio i suoi colleghi per l'immenso sforzo e il grande lavoro fatto dall'industria nautica italiana. La Camera di Commercio di Genova ha cercato di accompagnare tutti gli eventi proponendo, promuovendo la tipicità della nostra cucina, dei nostri prodotti con il nostro consorzio di Genova Gourmet. Ringrazio inoltre la confiduzia nautica per essere stato promotore non solo di un bellissimo salone, non solo di un evento commerciale di grande rilevanza, ma anche di un momento di riflessione, perché ci sono stati i forum molto importanti durante il corso del salone, uno anche promosso dallo stesso sindaco, sulla salute degli oceani, sullo stato del forum della Blue Economy. Cioè cose davvero importanti che catalizzano l'attenzione generale sulla nostra città e sul cuore della vita della nostra città. In particolare abbiamo affiancato la confiduzia nautica in questo Design Innovation Awards che si è svolto nella nostra sala delle gride alla borsa. Ecco, io trovo che l'associazione tra la bellezza di queste magnifiche barche e il Salone del Mobile di Milano, cioè i due eventi più importanti nella proposizione del Made in Italy che l'Italia propone, laddove forse non saremmo più buoni a fare molto bene automobili, ma barche, mobili e complementi di arredamento sicuramente sì. E nelle splendide barche che voi vedete, tanti bei mobili completano i mega yacht, mobili italiani, completano i mega yacht che voi vedete. Quindi l'associazione di Genova, Milano, nel proporre l'Italia, il bello dell'Italia, il ben fatto dell'Italia, mi sembra un evento importante. Ringrazio Saverio e spero che abbia gradito lui e i suoi colleghi l'ottima colcina Ligure che gli abbiamo proposto. Grazie. Presidente Toti, a lei la parola. Allora, quando si commenta un successo straordinario che trascende il significato di quello che è esposto in queste banchine, è sempre difficile fare la sintesi. Questo Salone credo che sia, e lo sarà anche quello del prossimo anno, quando questo quartiere sarà terminato, ma questo Salone lo è forse ancora di più perché manca il mattoncino finale, ti dà l'idea ancora della possibilità di crescere. Tanto diciamo che è un Salone che viene da lontano, è un Salone che ha cementato la politica di questa città, la regione di questa città, la Camera di Commercio e le sue categorie. Un settore intero lungo una strada complessa. Io ricordo il Salone dopo Ponte Morandi col Presidente Mattarella, poi ricordo i saloni del Covid. Oggi in qualche modo tutto questo, che è stato debolezza nel passato, è diventato una leva con cui si è fatto uno scatto di qualità come mai si era visto. Non credo al Salone Nautico, credo in nessun comparto e in nessuna città di questo nostro paese. Lo testimonia il fatto che sei ministri, un Presidente del Consiglio, sette ministri, me ne sono scordato uno, mi discuso, sono arrivati qua per celebrare, certo, un settore che cresce al 20%, ma per celebrare tante cose messe insieme e non era mai successo, guardate, che dentro un salone espositivo di una nostra categoria al tempo stesso si celebrasse una crescita a due cifre che dura da tempo, un quartiere intero rigenerato di una fiera fallita, di una penna come Renzo Piano che accomuna a questa città qualche cosa che avevamo fino a ieri solamente guardato da lontano ed invidiato, che so, la Barcellona delle Olimpiadi o questi esempi che ci portiamo, dietro da tempo, ma abbiamo firmato qua dentro anche il primo accordo per l'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione col Presidente del Consiglio, ospitati da un ramo di Confindustria, lo abbiamo fatto qua simbolicamente per far vedere una comunione di intenti tra il mondo dell'impresa, il mondo della politica, i livelli diversi del mondo della politica, quello comunale, quello regionale, quello nazionale, che hanno riconosciuto in questo evento una specialità, qualche cosa di straordinario ed eccezionale e se vale la testimonianza dei protagonisti, in questi giorni ho letto sui nostri giornali interviste da Massimo Perotti oggi a Giovanna Vitelli, a Galassi, i nostri top player dal punto di vista del fatturato, senza nulla togliere alle centinaia di bellissime aziende che sono qua ospitate e io ricordo quelle stesse interviste di soli 5-6 anni fa, quando la domanda non era come crescere ancora e come investire su Genova, era come fuggire da Genova per trovare altri orizzonti, questo credo sia veramente un merito di Confindustria importante che Saverio si mette come medaglia, ovviamente con l'appoggio di tutti noi che ci abbiamo creduto e sostenuto. Quindi io credo davvero che oggi bastino queste parole perché basta incontrare la gente sotto, insomma, se non servissero le parole dei protagonisti, quelle del Presidente del Consiglio, quelli dei principali imprenditori di settore, io oggi ho incontrato persone venendo qua, le ho incontrate ieri, l'ho visitato quasi tutti i giorni, che mi fermavano le più diverse, le più lontane pure per origini, per territorio da cui arrivavano e mi dicevano tutti la stessa cosa, si vive in questa città e in questi giorni un'effervescenza che non vedevamo da molto tempo, che fossero qui a comprare una barca o che fossero qui a mangiare un gelato. L'hanno detto tutti perché questo era il clima che si respirava qui e siccome l'economia campa di aspettative, quelle sul futuro, io credo che questo sia davvero il miglior segnale che da questo salone lanciamo all'Italia. Poi si consolida evidentemente e anche questo credo faccia parte della cornice che è importante per un quadro bello come questo, il fatto che Regione Liguria oggi è protagonista nel mondo della nautica, i suoi cantieri, quelli che ho citato prima, molti sono sulle nostre banchine tutto l'anno, non solo per il salone nautico, i refitting, i nostri porti che si stanno ristrutturando seguendo come layout i bisogni di una nautica che cambia per i suoi clienti. Credo che questa attenzione non si trovi in nessun'altra regione e io ne sono orgoglioso perché la nautica non vuol dire solo l'acquisto e la vendita di un natante, vuol dire frequentare le nostre coste, vuol dire mangiare i nostri prodotti, come ha detto prima l'amico Etanasio della Camera di Commercio, vuol dire costruire quella sinergia anche tra mondi diversi che abbiamo saputo costruire ed è l'ultima cosa, forse per la prima volta davvero in modo così compiuto, anche in città. Persino chi non ha mai varcato il tornello del salone nautico ha vissuto in questi giorni un'esperienza unica che l'ha richiamato, dai 20.000 del Porto Antico a ballare gli anni 90, alle sculture nelle piazze, ai ristoranti che offrivano i menu liguri, a Radio 105 che ci ha trattenuto fino a tardanotte l'altra sera. Credo che davvero mettiamo insieme tante esperienze che è difficile condensare in poche parole, ma che sia uno straordinario successo per questa città, per questa regione, per questo settore e quindi per il Paese, credo sia davvero sotto gli occhi di tutti come forse nelle 63 edizioni precedenti non si è mai potuto dire, oppure bisogna arrivare a quelle del boom economico degli anni di questo Paese che sarebbe bene ricordare tutti quanti come ospirazione. Quindi grazie davvero a tutti coloro che hanno partecipato per il loro tassello a costruire questa esperienza unica. Grazie. 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 Grazie a me, Max. Siamo rimasti soli. Bene. Prima di tutto consentirtemi di ringraziare chi ha fatto questo salone, chi l'ha diretto, chi ci ha lavorato giornalmente sulle banchine, ma oggi a me vi piacerebbe abbracciare tutti, perché per me è il quinto salone siamo sempre andati crescendo quest'anno penso di siamo arrivati a un livello altissimo manca ancora un anno e come diceva toti l'ultimo mattoncino sarà sempre quello se quello quello determinante voglio ringraziare la mia squadra perché veramente siamo una macchina da guerra fare il presidente di confindustria nautica è facile io mi ritengo un buon timoniere nella mia attività sportiva ho vinto nel 64 due due campionati italiani ma bucci lo sanno si può essere cioè non basta essere un buon timoniere se non hai un equipaggio buono si vince se c'è l'equipaggio bene è anche il tempo è anche il tempo le mille vele è stata annullata la gara delle mille vele ma il nostro sindaco era in testa io da regolamento però io gli davo anche la coppa perché si prende quando si cessa la gara chi è primo vince per me poi esatto però toti ha detto no regolamente questo non viene assegnato a nessuno bene io non sto a ridire tutte le cose come siamo bravi come siamo migliori siamo tutti perché sennò come si dice in toscana si diventa uggiosi ormai anche le pietre sanno e noi siamo i numeri uno su tutto e noi vogliamo diventare i numeri uno come ho detto più volte anche per quanto riguarda la manifestazione del nostro settore siamo molto vicini si sta lavorando per arrivare a questo io ho nel mio mandato ho iniziato a riportare il dialogo e penso di esserci riuscito mi prendo un po di merito ma ho avuto dall'altra parte persone che hanno capito che e abbiamo anche io penso gli ultimi scettici abbiamo convinto anche gli ultimi scettici che prima uscina e poi confindustria nautica non è che pensasse solamente al salone ai propri interessi noi pensavamo anche a genova perché il salone nautico internazionale è genova e genova è il salone nautico cioè questo rapporto pubblico privato ci ha permesso questo dialogo che sta continuando sempre magnificamente di far sì che noi diventeremo i numeri uno ma questo ve lo garantiamo perché abbiamo la testa dura lavoreremo già ci prendiamo una settimana di vacanza e poi lavoreremo duro anche col presidente ferrando ci metteremo seduti perché dobbiamo sistemare alcune cosette bene detto questo adesso adesso veniamo ai numeri no 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 non ti preoccupi no no ce la faccio cioè no volevo allora quello quello dei ministri e del premier l'ha già detto il presidente si è scordato il settimo ministro perché è venuto anche zangrillo a pranzo da me e il premier si è portato dietro anche fitto e quindi sono sette cinque in presenza e due in videoconferenza allora sapete tutto le novità i brand che ci sono qua noi abbiamo avuto 3.190 prove a mare e due giorni ce li siamo ce li siamo ce li ha mangiati il maltempo 1316 giornalisti accreditati oltre 11 ore di servizi radio e tv 2.294 articoli pubblicati nel 2022 noi abbiamo fatto 103.800 visitatori nel 2023 più 13,9 per cento mille e cento mille e cento mille e cento mille cento diciotto milla duecentosessantano le date le date per il prossimo salone 19 24 settembre certo settembre pensavamo a giugno noi si anticipiamo i lavori li facciamo più in fretta quindi è inutile è inutile si vede la mia contentezza la mia felicità che io voglio condividere con tutti no 118 e 269 118.269 e questi signori sono numeri veri i nostri sono numeri veri grazie a tutti ci sono domande sono previste domande ci sono domande da parte della stampa prego un attimo arriva il microfono un attimo soltanto buongiorno io volevo sapere se avete ottenuto come organizzazione dei feedback da parte degli espositori o diciamo anche utenti del salone per quanto riguarda la nuova parte diciamo quella che aggetta dietro sul canale di renzopiano se come dire siete soddisfatti del diciamo così assetto funzionamento se c'è qualche cosa da migliorare risponde direttore commerciale ognuno c'è la sua parte allora sì ovviamente noi sentiamo tutti dalla fase di allestimento alla fase di manifestazione a livello di flussi di percorsi è stato molto positivo le banchine anche quelle nuove anche quella nord che poteva essere come dire quella un po più a rischio perché era quella nuova e non visibile in modo diretto ha avuto un successo dal punto di vista della visita è chiaro che i cantieri sono in progress quindi noi abbiamo adottato tutte le misure e abbiamo investito il massimo che potevamo fare in termini di allestimento qualche disagio c'è stato è innegabile soprattutto con la pioggia però la cosa bella è che gli espositori hanno accettato questo di già disagio intravedendo già quello che sarà l'anno prossimo e quindi uno dei posti più belli del salone quindi il mix delle due cose ha fatto sì che anche nelle banchine nuove le parti nuove fosse positivo poi il signor il signor sindaco ha messo pure le palme e buongiorno a tutti ecco sono qua ma severio vai ha già anticipato in parte sono qua sono quasi ben hai anticipato in parte la mia domanda ma è una domanda che avevo fatto ieri anche a massimo perotti mi sembra di capire che il risultato di questo salone comunque confermi anche un format che ormai voi avete strutturato sui sei giorni noi ricordiamo il salone dei nove giorni dei due weekend ma forse al di là dei risultati e a luce anche di quello che avete detto si deve comunque confermare ormai un modello strutturato così sui sei giorni non è il caso quindi di ipotizzare non lo strano nel 2024 ti chiedo se forse in futuro potrebbe valere una riflessione ripensare all'idea dei due weekend oppure se questo effettivamente è il format funzionale poi a servire al meglio il salone grazie no confermo ormai che questo è il format dei sei giorni e come ha detto perotti tutti i nostri cantieri i nostri soci sicuramente c'è qualcuno che preferirebbe i nove giorni due weekend ma è troppo pesante voi sapete can genova monte carlo sono tre edizioni che sono tutte e tutte nel giro di 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 un mese si svolgono la il format è questo è giusto e noi lo riteniamo anche vincente presidente lei ha detto vogliamo diventare i primi cosa manca ancora cioè qual è lo scatto che si deve fare sulle presenze sul sugli espositori sul giro d'affari quale bella domanda allora questi due signori che sono qui accanto a me cioè noi come vedete sappiamo fare il nostro mestiere il format è giusto abbiamo i tre player che sono i principali senza togliendo niente agli altri che sono contenti e soddisfatti noi abbiamo delle idee in testa però anche il sindaco bucci e singolo toti devono investire un po' in infrastrutture cercare di far venire la gente più velocemente a genova non possiamo da venti miglia venire venire a genova in sei ore l'aeroporto che atterra un aereo non lo so però questo è l'unica lamentela che noi sentiamo che noi sentiamo che a genova è difficile arrivare a genova però non mi parlino più che loro hanno a canna hanno la croasette perché noi abbiamo tre quattro cinque croasette abbiamo rapallo santa margherita portofino e tanto quindi dobbiamo lavorare per far arrivare più velocemente le persone a genova ci sono altre domande bene allora grazie a tutti ancora una volta rilevo che tra l'acqua tra i fondi di sviluppo coesione che abbiamo firmato con la melonia abbiamo messo ulteriori 10 milioni sull'aeroporto di genova 20 erano stati finanziati precedentemente c'è un nuovo cda su cui puntiamo moltissimo io penso che l'aeroporto di genova già per il prossimo salone avremo la nuova aerostazione la nuova ala dell'aerostazione completata e sicuramente anche i lavori di ammodernamento dell'attuale o in corso d'opera o a buon punto perché penso che possano essere anche in qualche modo estesi gli appalti attuali visto che si tratta di una percentuale possibile quindi da questo punto di vista sull'aerostazione noi stiamo investendo moltissimo poi si tratterà di fare un lavoro ovviamente con le compagnie che non è né semplice né banale perché la concorrenza nel mondo è tanta ma certamente non ci sfugge nel tema né il problema grazie a tutti ancora una volta allora l'appuntamento è per il 19 settembre 2024 Grazie Grazie Grazie